Ciao, sono Emanuele, vengo da Enna, ero 9 anni. E' la seconda volta che sono venuto qui perché è bello, per vedere le bellette di Marzamemi, per farmi bagno in acqua e soprattutto per vedere il festival che c'è qui a Marzamemi. I film sono belli e ti fanno capire tante cose e quando te li vedi provi gli sentimenti, emozioni, amore e difficoltà. Il primo anno che sono venuto qui mi sono visto il festival e mi sono emozionato per il film della Shoah, che il padre si è sacrificato per salvare il figlio. Questo mi ha emozionato tanto. Ciao a tutti. Grazie. 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 Grazie.